Cari amici, felice anno nuovo. È passato un 2023 molto complicato, molto difficile. Abbiamo dovuto resistere di fronte ad attacchi molto coordinati, molto violenti, che sono arrivati all'indomani delle elezioni politiche del 2022. Un popolo si è risvegliato nel corso della cosiddetta violenza psicopandemica, quando il potere profondo decise di colpire i cittadini inermi per il tramite della manipolazione e del ricatto. Un ricatto che insieme siamo riusciti a respingere non soltanto sul piano comunicativo, ma anche sul piano più strettamente politico, considerato il fallimento di politiche repressive fondate sulla paura, che oggi nessun governo, nessuna maggioranza parlamentare potrebbe mai imporre, senza trovare un'opposizione fortissima di cittadini finalmente consapevoli e non più succubi. Questo grande risultato, cari amici, lo abbiamo ottenuto con pazienza, con forza, con costanza. Abbiamo combattuto a mani nude contro un sistema violentissimo, capace di occupare tutti i gangli del potere profondo. Riuscivano a manipolare la stampa, riuscivano a controllare tutti i partiti di governo, cercavano di limitare la capacità di denuncia delle forze di opposizione e bollavano i pochi resistenti in rete come fanatici antiscientifici capaci di rappresentare un grave problema per la sicurezza e per la salute del nostro intero popolo. Eppure oggi tantissimi italiani hanno scoperto l'inganno. Nessuno si reca più in quei grotteschi hub vaccinali per farsi inoculare un siero presuntivamente magico che non ha mai immunizzato e che invece comporta e ha comportato pericolosi effetti collaterali. Non può quindi dirsi perduta la nostra battaglia. La nostra forza, la nostra capacità di incidere è oramai dimostrata, è un fatto, è una ricchezza ed è un orgoglio per tutta la cosiddetta aria del dissenso che non riesce però ancora adesso a superare una fase adolescenziale, a superare alcuni limiti, alcune fobie, alcuni tic, alcune pulsioni che rappresentano l'onda lunga di un grillismo fallito e che avvelenano e inquietano un'aria potenzialmente maggioritaria che è però vittima di complessi che nel 2024 dovremo insieme superare. Cerchiamo intanto di capire, cari amici, che cosa è accaduto all'indomani del voto del settembre del 2022. Come sapete, le uniche forze che erano riuscite ad aggregare un consenso stabile e non aleatorio si riconoscevano intorno a tre principali proposte politiche. Da una parte c'era Gianluigi Paragone che ha recentemente deciso di appendere la cravatta al chiodo ritirandosi dopo non essere riuscito a raggiungere l'agognato scranno in Parlamento. Dall'altro c'era vita di Sara Cunial, capace di tenere insieme le componenti più estreme di un'aria del dissenso che ondeggiava pericolosamente tra pulsioni antipartitiche e suggestioni new age. Poi c'era Italia sovrana e popolare. Oggi democrazia sovrana e popolare, organizzata secondo schemi razionali, logici, tipici dei partiti novecenteschi, quando i partiti erano ancora una cosa seria, unica componente che ha resistito allo tsunami post-elettorale. Per questo posso oggi dirvi, con grande ottimismo, con grande ragionevolezza e sapendo di dire qualcosa di vero, che democrazia sovrana e popolare è finalmente pronta nel 2024 per dare finalmente una rappresentanza stabile, sicura, forte, concreta a quei milioni di dissidenti che sono rimasti sprovvisti di potere proprio perché disarticolati da un sistema mainstream che può godere anche del lavoro sporco di alcuni finti oppositori che predicano soluzioni irrealistiche di stampo millenaristico oppure propongono concetti astrusi come l'astenzione costituente che finisce soltanto per bloccare le migliori forze che nel nostro Paese esistono perpetuando così il dominio delle solite oligarchie finanziarie. Dicevamo che nemici che il 2024 è un anno decisivo, si terranno elezioni in Russia, elezioni in Europa, elezioni negli Stati Uniti d'America. Noi raccogliamo l'eredità di un mondo instabile, di un mondo pericoloso dove si moltiplicano i conflitti, dove la violenza, l'arroganza di un mondo occidentale palesemente in declino rischia di trascinarci tutti dentro una spirale di violenza senza fine. Notiamo con sgomento, con preoccupazione e con disgusto il doppio pesismo di una stampa mainstream che da un lato mostrifica Vladimir Putin presentato come un modello moderno zar desideroso di arrivare fino a Lisbona a cavallo delle sue truppe mentre dall'altro notiamo un atteggiamento davvero pavido, complice nei confronti dello sterminio genocida contro il popolo palestinese messo in piedi dal capo del governo israeliano Bibi Netanyahu nel silenzio di una comunità internazionale che per vergogna fa finta di non vederla. Queste vicende, cari amici, nel 2024 potrebbero deflagrare ulteriormente. La palese sconfitta di Zelensky in Ucraina nonostante gli squilli di tromba di un sistema mediatico corrotto e fasullo è oramai un dato di fatto. Questa sconfitta, che è una sconfitta della Nato e non di Kiev cambia persino la percezione nel mondo rispetto ai reali rapporti di forza. In questo momento l'unipolarismo americano è già finito si è infranto e andato in mille pezzi di fronte alla pervicacia, alla forza e all'orgoglio di un paese libero e sovrano come la Russia che ha deciso in maniera definitiva e risoluta di non sciogliersi all'interno del mondo indistinto, voluto e costruito dai globalisti. Questo dato di fatto sul versante geopolitico cambia completamente le carte in tavola da forza e speranza a tutti quei paesi non allineati che da tempo lavorano per aprire la stagione del cosiddetto multipolarismo per mettere fine, cioè, al dominio inconstrastato e arrogante dell'elite anglosassoni che negli ultimi 30 anni hanno insanguinato il mondo per il tramite di guerre ipocrite e violente che non servivano le ragioni della pace, non servivano le ragioni della democrazia, non servivano le ragioni della libertà, ma puntavano soltanto ad assicurare a beneficio di pochi gruppi finanziari e privati il controllo pressoché assoluto delle risorse globali da concentrare in favore di pochi ultraricchi lasciando briciole, miseria e povertà al resto di una popolazione trattata come inferiore e straccione. In Europa stiamo vivendo una fase particolarmente triste. Paesi come l'Italia e la Germania sono di fatto infiltrati, occupati dalle potenze vincitrici. nostri politici non hanno voce, non sono in grado di affrontare in termini dialettici il rapporto politico con i presidenti degli Stati Uniti d'America, dell'Inghilterra e delle altre potenze egemoni. Mentre tutto il mondo cerca di liberarsi dalla camicia di forza angloamericana, i paesi dell'Europa continentale primeggiano nel dimostrarsi servili, pronti persino a rinunciare ai propri interessi pur di dimostrarsi fedeli e acritici nei confronti di quelli che vengono definiti egemoni e benefattori. Noi vorremmo che il popolo italiano avesse uno scatto d'orgoglio. Noi vorremmo liberare la nostra gente, i nostri cittadini da questa sensazione di inferiorità indotta da un sistema mediatico corrotto ed etero-diretto al fine di fare rinascere nel nostro Paese una stagione all'insegna della crescita, del progresso, dell'orgoglio nazionale, della libertà per popoli finalmente liberi da gabbie tecnocratiche e sovrastrutturali per ristaurare un nuovo modello di solidarietà tra stati e nazioni che non rispolveri affatto antichi, sciovinismi o nazionalismi, ma costruisca un sistema armonico generale fondato però su un principio basilare. Ogni popolo ha diritto ad esprimere liberamente la propria democrazia secondo usi, costumi, identità che sono propri e non imposti dall'esterno da chi pretende di rappresentare l'unica civiltà possibile bollando tutti gli altri come miserabili barbari da domesticare con la frusta e con la forza. Per questo, sulla base di queste premesse, cari amici, abbiamo deciso con democrazia sovrana e popolare di partecipare da protagonisti alle elezioni europee del 2024. Le elezioni europee del 2024 rappresentano un tassello fondamentale e importante per tenere insieme quei cittadini che hanno capito che vogliono combattere la malizia del potere ma che non contano proprio perché non organizzati all'interno di strutture solide, compatte, forti, mature, in grado quindi di sfidare il primo livello del potere continentale. A quelli che bollano come una ipocrisia l'intenzione di partecipare ad una campagna per le elezioni europee pur dicendosi pronti a combattere per l'uscita dall'Europa, rispondo che la loro sintesi è miope e assolutamente sbagliata. Noi possiamo e dobbiamo aprire nel Paese un dibattito sulla opportunità di colpire l'Europa dall'interno e di riportare sovranità monetaria, culturale e politica all'interno del nostro Paese. Dobbiamo sfruttare ogni momento, ogni occasione, ogni spazio per inculcare nella gente di cittadini finalmente liberi e pronti a capire nuove idee, nuove prospettive, nuovi modelli. E le elezioni europee del 2024 rappresentano uno scenario importante, decisivo, per parlare al cuore di una cittadinanza smarrita, ma non doma, che vuole sentire parole di novità, stanca di una vecchia politica completamente servile nei confronti dei padroni di Bruxelles e Francoforte, cittadini che non aspettano altro che riuscire a aggregarsi, a riconoscersi dentro contesti politici sani, liberi e non manipolabili come democrazia sovrana e popolare. Ricordo infine che, pur con tutte le differenze del caso, l'UKIP di Farage riuscì a fare crescere, a fare divampare in Inghilterra e nel Regno Unito. la necessità di dover rompere la gabbia dell'Unione Europea proprio partecipando e vincendo ad elezioni di questa natura. Per cui non date retta ai tanti che, forse per invidia, per miopia, forse nella speranza di cavalcare un sentimento antipolitico presente e forte nel nostro Paese, finiscono da posizioni fintamente antisistema per dare più o meno volutamente forza a quella stessa oligarchia che noi fieramente intendiamo combattere. Non è rimasto più nessuno, nell'area del cosiddetto dissenso, pronto a combattere per le ragioni in cui crediamo. Come vi avevamo anticipato, siamo stati facili profeti. Paragone e Cunial hanno lasciato il campo all'indomani delle elezioni. Noi invece siamo ancora qui, forti delle nostre proposte, forti della nostra libertà, forti della nostra tenacia e confidiamo nel riconoscimento della parte migliore dei cittadini italiani per proseguire insieme a voi e per voi una battaglia di natura epocale che nel 2024 potrà trovare finalmente un fortissimo e autentico compimento. Quali sono le ragioni che ci spingono a combattere? Quali sono le chiavi di lettura che vogliamo offrire ad ognuno di voi? Qual è il mondo che intendiamo costruire e quali sono i limiti dell'attuale sistema di potere che intendiamo denunciare? Ebbene, cari amici, passati 30 anni dall'inizio di un nuovo meccanismo di potere sovranazionale, possiamo dire senza tema di smentita di avere visto peggiorare le nostre condizioni di vita non soltanto sul piano economico e finanziario ma anche su quello culturale e spirituale. Viviamo dentro un paese più povero, più triste, più arroccato dove la scala sociale è ferma, dove il merito è un miraggio e pochi privilegiati riescono a trasferire quote di potere e di ricchezza soltanto su base nepotistica. Un paese curvo, un paese diventato grigio, triste, dove i livelli di emigrazione giovanile sono altissimi, la precarietà è diventata la norma e la povertà, per chi non ha la fortuna di nascere dentro contesti dorati, diventa una situazione di fatto cronica e irreversibile. Noi vogliamo invece riappropriarci delle chiavi di casa, vogliamo riprenderci le leve della sicurezza e della gestione dell'interesse nazionale proprio per cancellare, per ribaltare questa realtà. Vogliamo consentire a giovani e valorosi ragazzi di poter riuscire a realizzarsi anche all'interno del nostro paese. Vogliamo rompere questo potere burocratico sovranazionale che risponde agli ordini dei burattini di Bruxelles per consentire ad ognuno di poter esprimere i propri talenti senza doversi adeguare rispetto agli ordini che vengono da un mainstream eterodiretto dalle forze del denaro e che ci vogliono e pretendono di renderci tutti omologati, tutti silenti, tutti pronti ad assecondare le manie di un potere arrogante superbo che ha costruito una sorta di dogmatismo laico all'insegna di finte emergenze che in realtà servono interessi nascosti. Non vogliamo più vivere ossessionati dalla paura. Non vogliamo più passare le nostre giornate a demistificare le bugie di pochi terroristi mediatici che vogliono controllare masse spaventate per il tramite di narrazioni fasulle costruite ad arte e veicolate con malizia da pochi serbi del potere sovranazionale. Vogliamo ritornare a dare dignità al potere pubblico al fine di limitare, contrastare le fortissime ingiustizie sociali considerata la crescita del divario, considerata l'esplosione delle disuguaglianze economiche che non accennano a fermarsi. Vogliamo ricostruire un tessuto sociale a partire dalla difesa di un welfare negli ultimi anni disarticolato e umiliato da politicanti di destra e di sinistra che hanno decantato le virtù di un mercato fintamente potente e capace di restituire ad ognuno secondo i propri desideri quando in realtà l'iperliberismo economico ha soltanto creato maggiori danni e ha ridotto la coesione sociale nel nostro Paese. Vogliamo ritornare a puntare sulla passione pubblica e politica. Crediamo che la gestione dell'interesse collettivo non sia di esclusiva pertinenza di pochi ottimati ma siamo convinti che il popolo possa e debba ritornare a contare, a fare sentire la propria voce organizzandosi limpidamente dentro strutture partitiche che per come pensate dalla nostra Costituzione possono consentire a qualunque cittadino di diventare istituzione e di diventare classe dirigente di questo Paese per il tramite dell'impegno, per il tramite della forza, per il tramite della cultura, per il tramite della tenacia. Ebbene, cari amici, noi siamo tutto questo. Democrazia sovrana e popolare nel 2024 accompagnerà con tutte le proprie forze questa dimensione politica e pubblica nella speranza di riuscire finalmente a dare voce a milioni di cittadini oggi disillusi, oggi giustamente arrabbiati, ai margini di una società corrotta e malata che non sta più in piedi. Sappiate però, cari amici, che non possiamo tirarci fuori dalla battaglia. Nessuno può dire qualcun altro sistemi le cose anche per noi. È compito nostro, è compito delle persone migliori di questo Paese, è compito delle avanguardie culturali, è compito di quelli che non si sono fatti manipolare, è compito di quelli che amano la pace e non il compromesso alzarsi in piedi al fine di cambiare le cose. Un passo decisivo nella direzione del cambiamento sostanziale lo vivremo il 27 e il 28 maggio a Roma, all'Hotel Ergife, quando si svolgerà il primo congresso fondativo del nostro partito, democrazia sovrana e popolare. Il primo grande, serio tentativo di mettere insieme le correnti di pensiero migliori del Novecento, che riattualizzate dentro un contesto che sa interpretare e modificare il presente, offre a tutti quanti una prospettiva di speranza non aleatoria in grado di non arrendersi di fronte alle follie di un globalismo morente che diventa violento e perverso proprio perché più debole. Per questo, cari amici, voglio concludere questo discorso di fine anno ringraziandovi per essere stati insieme a noi nel 2023. Sono convinto che rimarremo insieme anche nel 2024, che sarà un anno di grandi cambiamenti, un anno importante, un anno decisivo, che però possiamo affrontare forti della nostra consapevolezza, sicuri del nostro impegno, certi di combattere dalla parte giusta della storia, pronti a gettare un seme di speranza in un mondo che non ci voleva e che invece sarà costretto a fare i conti con un protagonismo popolare finalmente fiero, pronto a cambiare l'ordine delle cose. Grazie a tutti.